Ciao e ben tornati sul canale carissimi amici Conad Storie di Mare Tra ben disegno, lo sapevi che ci ha scritto un ragazzino, un ragazzo che è di una delle classi vincitrici? Ah, bello! Ha detto che sono pagina torta, non ricordo la pagina comunque grazie per averci scritto le ho risposto ovviamente complimenti per essere stato pubblicato insieme alla tua classe allora, Storie di Mare dal 10 aprile al 21 di maggio e quindi non manca moltissimo 21 di maggio raccogliete i bollini uno, perché poi mi correggono giustamente 12 bollini più 3,50 euro un bollino ogni 20 euro perché confondo a volte le raccolte e potete scegliere tra uno di questi bellissimi era più bello di quelli spaziali noi abbiamo preso Hydronaut e adesso, come si vede, come si evince dalla fotografia di copertina Fischsaur 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 è questo, perché eravamo in dubbio tra Keeper e Fischsaur e abbiamo preso Fischsaur perché, mi racconti, signorina come mai abbiamo scelto Fischsaur allora io lo so uno è giallo esattamente è giallo due me l'ha consigliata una amica chi? Dana ah e accettiamo i concili su Fischsaur si va bene va bene e devo dire che è carino perché mi ricorda un po' uno squalo e poi anche giallo quindi è molto carino però cioè dato che di cose con i granchi ne ho già tante tipo il bicchiere sempre della conad esatto sempre della conad sai che non ho visto la conad? perché io sono il segno del cancro volevo cambiare non lo so esatto quindi fa gli anni quando? a luglio eh? il 2 luglio il 2 luglio e quindi probabilmente a luglio faremo un sacco di video si dei regali ma che regali? della cover del cellulare ti compriamo un sacco di patatine ok? da prima e questo diciamo che adesso è improbabile che si riesca che si riesca a ma è finito? comunque vi prometto non riuscirò mai a parlare in questo ve lo prometto che farò un video dove a vostra scelta ne apriamo uno col coltello no sceglierò un pupazzo così e lo ricreerò con la pasta clay come l'anno scorso è vero allora dicevo non so se riusciremo ma non si sa mai che arrivano magari dei bollini inaspettati quale sarebbe il prossimo? scontato poi allora keeper poi gastropod e poi psi e siri non lo prenderà no siri va perché gli hanno fatti i capelli così va bene quindi e aspettiamo poi oramai sta finendo questa aspettiamo quella dell'anno prossimo chissà se manterranno ancora questo brand con la pasta clay sai cosa? sai cosa? dimmi prima di andare a fare geografia forza che hanno fatto quelli dello spazio tipo alieni e quelli dell'acqua secondo me faranno quelli della terra oppure qualcosa da tema riciclaggio sai che abbiamo perché tipo con gli umani che buttano la bottiglietta e c'è il peluccio della bottiglietta rovinata oppure della bustina di cracker ma facciamo un video ad hoc o approfittiamo qua per dire no S.Lunga non ci è piaciuto che quest'anno avete fatto i trapani i cacciaviti elettrici e tutti gli utensileria no non va bene noi ci aspettavamo noi i mi chiamavano i super foodies noi adesso dato che Conad oramai mi manca poco e comunque è già uscito questo non credo uscirà l'altra no adesso basta dovrebbe uscire il Lidl noi adesso aspettiamo il Lidl e speriamo in qualcosa di non trapani elettrici esatto grazie no almeno potevate fare le miniature di trapani elettrici sarebbe stato carino cioè compri il trapano grande ma se vuoi c'è anche la miniatura piccolina tipo giocattolo eh con la scatoletta qualcosa non si può passare almeno fatelo gradualmente non si può passare dal domino super foodies super giocattolosi a i trapani noi bambini ci rimaniamo male giusto fa niente noi bambini ci rimaniamo male appunto va bene quindi adesso anche la cona dell'anno prossimo gli idropulitori vabbè e quindi chi lo sa no speriamo di no perché stanno continuando a fare meno cose per bambini sai chi gli Eurospin sono dei grandi che prima hanno fatto quest'anno i Simpsons prima avevano fatto i Minions prima hanno fatto Star Wars e prima ancora gli Avengers e mannaggia non siamo riusciti a farli gli Avengers se no vedova nera tutta la vita eh sì sì vabbè li recupereremo anche Iron Man per te che aveva la mano allungata e si illuminava spettacolo non lo so non me lo ricordo quindi vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un like condividere i commentari schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e come sempre noi vi inseriamo e ci vediamo al prossimo video ciao